Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Enzo Paolo Turchi ha deciso di abbandonare il grande fratello, annunciando la sua uscita definitiva durante la puntata del 12 novembre. Il ballerino ha spiegato che, nonostante l'affetto per i suoi compagni, il desiderio di tornare dalla sua famiglia è diventato insostenibile. Chiarendo i motivi della sua decisione, Turchi ha smentito i rumors sui social secondo cui sarebbe uscito per uno spettacolo teatrale. Non lascio per una commedia musicale. Il mio lavoro su quella è finito da tempo. Lascio solo per la mia famiglia. Dopo aver superato difficoltà personali grazie al sostegno del programma e dei coinquilini, ha voluto ringraziare tutti per il percorso vissuto insieme. Alfonso Signorini gli ha riconosciuto la sincerità, sottolineando che Turchi aveva promesso di non fare teatrini al momento dell'addio. Salutando i geffini, Turchi ha ribadito quanto sia grato per l'esperienza. Confessando di aver vinto la sua battaglia personale con il solo fatto di partecipare e di superare le difficoltà incontrate. Ha concluso il discorso con parole affettuose, non cambiate, migliorate ciò che siete e sappiate che vi ho voluto bene. Con un freezing posto agli altri concorrenti, Turchi ha salutato i compagni, augurandosi che la sua esperienza possa lasciare un segno positivo nelle loro vite.